La festa dell'atletica organizzata dalla Fidal Messina ha consentito una volta ancora di premiare l'eccellenza del territorio. L'eccellenza è la parola chiave, anche quest'anno penso che sia un Let Movie che si ripresenta ormai da diversi anni. Ci piace far conoscere a tutta la nostra provincia gli atleti che si sono distinti in ambito internazionale, nazionale e regionale. Atleti sui quali non si può assolutamente derogare, nel senso che hanno partecipato a delle competizioni piene. Chiarisco subito quello che voglio dire. Può succedere qualche volta, soprattutto nell'ambito dei master o di altre competizioni, che le gare non siano molto partecipate. Questo è stato anche un criterio di selezione da parte nostra. Tutti gli atleti premiati si sono confrontati davvero con tantissimi concorrenti e alla fine hanno fatto podio per quanto riguarda le premiazioni regionali. Sono vincitori di titoli regionali, quindi per noi significa portare avanti veramente quella che è l'atletica messinese in ambito regionale. Atleta emergente, Zuir, dell'amatore Duilia. Ne ricordo sempre di Anna Rita Sitoti. Assolutamente. Atleta emergente, meritatissimo questo suo podio ai campioni italiani. Un'atleta che sicuramente avrà ancora molto da dare perché davvero in forma smagliante e in grande crescita è seguito benissimo dall'amatore Duilia. C'è il senatore Calabro, ma chiaramente anche il presidente e il vicepresidente, che sono entrambi allenatori, hanno un occhio di riguardo per questo loro atleta a testa di punta, punta di diamante. E quindi ci aspettiamo sicuramente un'annata 2019 altrettanto performante. Grazie a tutti.